LIMO è un acronimo, significa Linguaggi, Impresa e Opportunità, è un progetto sostenuto dal Comune di Pesaro e finanziato dalla Regione Marche e dal Dipartimento della Gioventù del Governo Centrale. È un progetto che vuol fare incontrare ai ragazzi i giovani professionisti che hanno trasformato le loro passioni in lavoro, questo nella prima fase, e nella seconda fase accompagnare nuove idee di giovani a una forma imprenditoriale o comunque dargli forma. Quindi partiamo con quattro incontri fino a dicembre adesso che li abbiamo chiamati Inspire, su quattro tematiche, una è la moda, una è l'illustrazione, una è l'arte e una è l'innovazione tecnologica legata al metaverso, alle criptovalute e alla blockchain, per poi arrivare a dicembre a una call lanciata ai ragazzi del territorio che dovranno rispondere dicendoci quali sono i loro sogni, le loro idee, la loro idea imprenditoriale, che noi accompagneremo in un percorso da gennaio a maggio cercando di dargli struttura, quindi lavoreremo sulla brand identity, sulla sostenibilità con il business plan e avremo dei formatori importanti che metteremo a loro disposizione. Il percorso è destinato a giovani tra i 14 e i 35 anni, è assolutamente gratuito per tutti, abbiamo una landing page, una pagina dove i ragazzi possono vedere un po' la struttura dei vari blocchi del progetto, iscriversi al sito Eventbride, quindi per notare i loro posti, l'invito è a farlo velocemente perché ovviamente i posti, essendo un'esperienza gratuita con dei professionisti super, li stiamo esaurendo velocemente è un progetto portato avanti dalle associazioni giovani del territorio, quindi il capofila è Zoe, ma ci sono anche Tavolo Studenti, Seconda Era, Giogrà, Sistema Critico, Tribalex e Terre. Questo è un nuovo progetto che si inserisce nel percorso di Città Italiana dei Giovani, durante il quale abbiamo cercato di lavorare su quello che era il disagio, su quella che era la consapevolezza dei nostri giovani su alcune tematiche, bene adesso cambiamo un po' indirizzo e cerchiamo di dare una formazione ai nostri giovani che hanno voglia di mettersi in gioco, quindi ci saranno quattro incontri basati su arte, moda, tecnologia e un ultimo incontro molto importante sull'uso consapevole dei social.